Benvenuti a Quante Storie nella Musica, il progetto mirato alla divulgazione di argomenti inerenti alla storia della musica, la musicologia, la teoria musicale e le loro implicazioni sociali e culturali. Io sono Alessandra, sono una musicista e un'insegnante. In questo canale raccontiamo storie affascinanti e poco note, che vanno a ristabilire alcuni punti cardine della storia della musica, ma anche della cultura afroamericana, che spesso si perdono nella mistificazione dei singoli narratori. Gli argomenti trattati emergono da precise esigenze, spesso anche da stimoli esterni suscitati dalla nostra community o da precise curiosità. Trovate ulteriori informazioni sul sito www.quantestorienellamusica.it, dove sono disponibili anche percorsi didattici di musicologi e compositori di altissimo profilo. Diffidiamo dai docenti che non studiano più e non li abbiamo nel nostro team. La formazione personale continua è alla base della filosofia dei nostri docenti, ma anche dei nostri utenti, dalla pratica fino alla ricerca. Vi invito ad iscrivervi al canale e a spuntare la campanella, per non perdere le novità e i contenuti che di solito destiniamo al nostro canale YouTube. Invece, per restare aggiornati sulle nuove scoperte e i contributi gratuiti, i nostri corsi, cliccate sul link in descrizione ed entrerete a far parte della nostra community. Non vi preoccupate, non abbiamo nessuna intenzione di tediarvi. Riceverete informazioni su nuove scoperte e novità solo quando lo riterremo necessario. Un appuntamento a prestissimo con la prossima storia affascinante. Ciao!